Questo è un embleme che noi facciamo per missionari mormoni, per l'aiuto. Questo deve essere un Thai-Tech. Ne vende così perché non sono montati? Sì, smontati e montati. Abbiamo tutti, per tutti i gusti. Tanto da nascerne? Dipende dal prezzo. Dipende dalla qualità. Sì, capisco. Se tu voglio, ho 30, 40 euro, 50, dipende di chi l'ha fatto. Il cameo, noi siamo artigiani. C'è anche l'articolo del mattino, Repubblica. Cameo d'autore o cameo da souvenir? Sono due. Capisco, sì. Pardon. Allora, ti piace più il fiore per la foto o vuoi visaggio? Non è di sasci. Di sasci. Bene. Ho questo qua e questo è a Diana. Facciamo altro po' i capelli. Ecco qua. Si vede? Sì. Vedimi. Hai fatto? Sì. Ma tu sei fotoreporter? Foto reporter. Per famiglia. Ma noi siamo sulla guida turistica americana. Noi, sulla guida turistica americana.